a volte arriviamo in sosta e oppure una protezione di progressione e c'è un chiodo vecchio che va imbattuta quindi è impossibile metterci un moschettone dentro e c'è un cordino anzi un cordone che è piuttosto brutto quel cordone lì è una vecchia corda di diversi anni fa di cui non mi fiderei quindi invece che in modo pigro passare il moschettone o il rinvio nel cordone marcio io ho aperto il cordino l'ho passato dentro al chiodo l'ho rianodato e poi ci ho costruito la sosta